Buon pomeriggio a tutti, è il 20 settembre, sono le ore 17, direi che siamo come al solito il più puntuali possibile. Prima di cominciare i soliti convenevoli, naturalmente la richiesta a tutti voi di pigiare sulla freccetta Condividi in modo tale da poter allargare il numero delle persone che ascoltano queste dirette e poi ovviamente ricordare a tutti che della diretta resterà un video che potrete sempre trovare sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e naturalmente sul canale di YouTube. Di cosa volevo parlarvi oggi? Partirei dal viaggio in Cina di Luigi Di Maio, un viaggio rispetto al quale si è dato un grandissimo battagio pubblicitario, io devo dire che naturalmente apprezzo l'attenzione nei confronti della Cina, è un'attenzione però che non nasce con questo governo, vorrei che fosse molto chiaro, ho avuto già occasione di dibattere con il mio successore Michele Geraci su Twitter perché lui era andato in Cina da poco, ha firmato un accordo sul quale avevamo molto lavorato come governo e naturalmente poi è il nuovo governo che firma l'accordo perché nella politica estera deve esserci continuità e così naturalmente c'è continuità. Facevo notare al mio collega Geraci insomma che conviene comunque sottolineare che il paese si muove con continuità in politica estera che quindi i governi che si succedono ereditano il lavoro fatto in precedenza ed è un lavoro che noi abbiamo fatto con un certo impegno, io credo che molti di voi sappiano che appunto credo di essere l'uomo di governo al mondo che più spesso ha visitato la Cina nel più breve periodo, sono stato in Cina per dieci volte nell'arco di 18 mesi, ero praticamente lì ogni mese, ma non sono stato poi l'unico uomo di governo dei governi precedenti ad essere andato in Cina, durante gli anni in cui io ero al commercio internazionale sono andato in Cina tante volte il ministro degli esteri Alfano, il ministro del Rio, delle infrastrutture, dei trasporti, c'è stato Paolo Gentiloni, anche lui almeno due volte durante gli anni in cui è stato presidente del Consiglio ed è stato l'unico presidente del Consiglio del G7 a partecipare alla Belt and Road Initiative, all'iniziativa organizzata a maggio del 2017 a Pechino per il famoso progetto della nuova via della seta e poi come dimenticare la visita anche del presidente della Repubblica Mattarella che ha fatto un giro in Cina lunghissimo, è stato a Shanghai, è stato a Pechino, è stato a Xi'an, è stato a Chongqing, insomma anche il presidente della Repubblica in quel periodo ha riconfermato la presenza dell'Italia da quelle parti e naturalmente lo stesso Di Maio che adesso, che appunto oggi, ieri oggi è stato a Chengdu, è andato a visitare una importantissima fiera dove l'Italia è ospite d'onore e naturalmente l'accordo che l'Italia fosse ospite d'onore della fiera è un accordo che risale a molti mesi fa perché non si improvvisa naturalmente una partecipazione in un posto così importante, Chengdu è una delle capitali, diciamo una delle città più importanti del Sichuan, un'area molto importante della Cina, della Cina che si sta sviluppando, della Cina occidentale, tra l'altro dal Sichuan parte la via della seta terrestre, c'è proprio una ferrovia che arriva a Duisburg in Germania, quindi una zona estremamente importante. Io stesso ero stato a Chongqing e a Chengdu ad agosto dell'anno scorso, del 2017, e quindi devo dire mi compiaccio che il nuovo governo stia continuando il lavoro che avevamo cominciato. Ovviamente da parte del ministro Di Maio non c'è il minimo riconoscimento di tutto questo, ma è intuitivo ovviamente che tutto quello che si sta facendo adesso è naturalmente frutto anche del lavoro precedente. Ripeto, è una cosa del tutto normale perché in politica estera sempre l'Italia è, possono cambiare i governi, ma per quanto riguarda gli impegni internazionali assunti, naturalmente il paese si muove in continuità perché pacta sunt servanda, dicevano gli antichi, gli accordi devono essere rispettati e quindi anche se li ha fatti o li ha sottoscritti un governo precedente, questi vincolano anche il governo successivo, questo è proprio una regola base del diritto internazionale. Però a parte questo e al fatto che, appunto, tanto per dirvi, noi nel 2017 rispetto al 2016 abbiamo fatto più 22% di esportazioni in Cina, Di Maio dice che lui va in Cina ad allargare i mercati per le nostre imprese, ma insomma noi avevamo fatto un più 22% molto sostanzioso con un investimento sulla Cina che si era quadruplicato rispetto agli anni precedenti, abbiamo investito tantissimo, pensate che nel 2017 abbiamo investito in Cina 20 milioni di euro, che era la metà di quanto spendevamo per tutto il mondo fino al 2013, fino al 2013 l'Italia allocava circa 40 milioni di euro per la promozione del Made in Italy, noi abbiamo portato quei 40 milioni a 200 milioni e così, avendo più fondi a disposizione, abbiamo potuto fare un investimento sulla Cina molto sostanzioso. Quindi un lavoro fatto, benissimo che ci sia andato Geraci, il mio successore, benissimo che ci sia andato il ministro Di Maio. Detto questo però, lasciatemi fare un piccolo passaggio su questa vicenda dei voli aerei, perché delle volte viene da dire ma non ne parliamo nemmeno, poi poiché in realtà questo è parte della propaganda 5 stelle, è una parte molto sostanziosa, ebbene che ne parliamo. Sapete che Di Maio ha detto io parto in economy, ha fatto vedere la carta d'imbarco, poi qualcuno è andato a dire che la carta d'imbarco diceva che il posto 5C dove lui era seduto era un posto, non so se di business o di economy, a me francamente non interessa moltissimo e vi spiego perché. Io penso che Di Maio farebbe bene viaggiare in business. La business si chiama business non per caso, cioè la classe business e la classe turistica. La classe turistica dove vanno i turisti, che quando poi arrivano alla destinazione possono andare in albergo e riposarsi, la business si chiama business perché chi la prende va nei posti a lavorare. Ora, tenete conto che andare in Cina, Di Maio dice che lui ci è andato con un volo poi da Amsterdam, quindi lui ha fatto un volo Roma-Amsterdam, durata due ore, due ore e mezza più o meno, e poi un volo di nove ore e mezza da Amsterdam a Pechino. Si arriva a Pechino di solito quando a Pechino sono più o meno le otto e mezza alle nove di mattina, quindi poiché Pechino, la Cina è sei ore avanti, Pechino è sei ore avanti in particolare, questo vuol dire che tu arrivi a Pechino quando per te sono le tre di mattina. Che cosa succede? Che arrivi alle tre di mattina, lì sono le otto, le nove, ti portano in albergo, ti fai una doccia perché di più non c'è tempo e ti portano poi immediatamente a fare le riunioni che devi fare. Quindi tu cominci a lavorare diciamo intorno alle undici di mattina, che per te sono le cinque di mattina, e hai davanti tutta una giornata perché poi devi arrivare fino a sera. Ora, se hai viaggiato in business, che hai viaggiato in economy, quindi in classe turistica, vuol dire che hai fatto tutto il viaggio sostanzialmente seduto perché in economy non c'è la possibilità di dormire, di mettersi diciamo in modo orizzontale. Hai i piedi che pennono verso il basso, che ovviamente dopo molte ore, dopo dodici ore in aereo sono anche belli gonfi, e fai quello che puoi. Dopodiché arrivi lì e hai tutta una giornata davanti, che è una giornata nella quale lavori e fai un lavoro importante perché rappresenti l'Italia, quindi rappresenti tutti noi 60 milioni di concittadini, e se non hai dormito la notte e devi lavorare tutto il giorno perché poi appunto ti portano a lavorare da subito, come giusto che sia, se non hai dormito dici scemenze o non capisci quello che fai. Tra l'altro mi risulta appunto che Di Maio non sia neanche un proprio un campione di lingue straniere, quindi deve anche giustamente applicarsi, avrà gli interpreti, avranno tutto quello che è necessario, ma se io potessi dire la verità preferirei che i miei ministri e che rappresentano gli interessi del mio paese arrivassero nei posti e fossero in grado di connettere perché appunto la gestione dei fusi orari è sempre molto complicata. Allora quello che mi dispiace è che poi nella differenza ovviamente un volo business costa più di un volo in economica, ma se guardiamo al bilancio dello Stato italiano che Di Maio voli business e voli economica francamente non fa nessuna differenza, fa la differenza sulla qualità del suo lavoro. Ora Di Maio è giovane, ha poco più di 30 anni, quindi è uno magari anche un po' fresco e tosto, come si dice, perché le taglie lo consente. Però, ripeto, c'è bisogno, perché la privazione del sonno è una delle peggiori torture che si possono infliggere un essere umano, io vorrei vivere in un paese nel quale non si giudicassero i ministri sulla base del numero della poltrona, dell'aereo dove viaggiano, quando rappresentano lo Stato, ma sulla qualità del lavoro che fanno quando rappresentano lo Stato. Allora, caro Di Maio, a noi con cittadini, diciamo a noi cittadini, non ci venire a raccontare quanto hai speso, perché se vuoi proprio non spendere niente, non ci andare proprio in Cina, così risparmiamo di più, ecco, non fare missioni internazionali e quindi abbiamo risparmiato il massimo, diciamo, del costo. Se ci devi andare, vacci normalmente come ci andrebbe un dirigente di una qualsiasi azienda che arriva a Pechino e dopo una notte insonne deve andare a lavorare, deve stipulare dei contratti, deve fare delle trattative che è quello per il quale noi comunque ti paghiamo e quindi vorremmo che lo facessi bene. Inoltre, se tu rientrassi in quest'ottica e smettessi di avvelenare i rapporti tra i cittadini e la politica, sottintendendo sempre che il politico non va lì in buona fede a fare un buon lavoro, ma sta lì per fregare il contribuente, noi forse vivremo anche in un paese con dei rapporti più civili tra di noi e non sull'orlo sempre di una crisi di nervi come succede da quando il Movimento 5 Stelle ha acquisito peso in politica. Quindi francamente basta, viaggia bene, lavora bene, fatti giudicare per i risultati che porterai e non per quanto spendi per il biglietto dell'aereo, perché altrimenti, come ho detto, tanto vale che il biglietto non lo fai, stai a Roma e siamo tutti più contenti. Detto questo, vi chiedo sempre di piggiare sulla freccetta del condividi. Un'altra cosa che volevo raccontarvi, perché non so se domani sui giornali uscirà, però è una cosa che mi sembra importante che è successa in Parlamento quest'oggi e quindi una delle promesse che faccio durante queste dirette è anche di aggiornarvi su quello che accade in Parlamento. Oggi c'è stata la riunione della Commissione Esteri e in questa riunione si discuteva una interrogazione che era stata presentata, firma di Lia Quartapelle, di Piero Fassino e mia. Perché avevamo presentato questa interrogazione? Perché ricorderete il caso Skripal, il caso di questo signore russo avvelenato con sua figlia in Gran Bretagna con delle sostanze chimiche e la Gran Bretagna, quando c'è stato questo avvelenamento, ha detto che si era trattato di un attacco con armi chimiche sul proprio territorio, fatte da una potenza straniera e che questa potenza straniera era la Russia. A seguito di questa vicenda ci sono state espulsioni di diplomatici anche dalle principali capitali europee, inclusa l'Italia. Diciamo, si è subito mostrato che ci fosse... la Gran Bretagna era molto convinta che il mandante fosse la Russia di Putin e i paesi alleati della Gran Bretagna, tra cui naturalmente l'Italia, avevano, come dire, stabilito una solidarietà, la solidarietà tra alleati che c'è di solito, quindi sulla base anche delle informazioni ottenute da Londra col governo precedente, si era proceduto a delle rappresaglie di tipo diplomatico, come l'espulsione di personale diplomatico dalle sedi, dalle ambasciate anche in Italia, russe, diciamo a Parigi, a Londra, a Berlino e anche a Roma. Che cosa è successo però? Che qualche settimana fa, già con il nuovo governo in carica, Francia, Germania, Canada e Stati Uniti si sono riuniti e hanno fatto un'ulteriore lettera di solidarietà alla Gran Bretagna per questo attacco con armi chimiche sul territorio britannico perpetrato da una potenza straniera. Una cosa molto grave, attenzione, ma è veramente una cosa grave perché viola la sovranità, è in sostanza una specie di piccolo atto di guerra. E la cosa che ci ha stupiti è che l'Italia non risultava tra le firmatari di questa dichiarazione di solidarietà a Londra. Allora, con lì a Quartapelle e Piero Fassino abbiamo rivolto un'interrogazione al governo chiedendo al governo di spiegarci che cosa era successo e cioè se l'Italia non aveva firmato quella lettera perché non era stata interpellata e quindi era considerata dagli alleati poco importante, quindi la considerazione dell'Italia era molto bassa, o se invece l'Italia fosse stata invitata e avesse deciso deliberatamente di non firmare questa lettera in sostegno alla Gran Bretagna, cambiando sostanzialmente atteggiamento e dando quindi credito alle tesi russe. E quindi questo pomeriggio è arrivato Guglielmo Picchi, sottosegretario degli esteri, a rispondere a questa interrogazione nella quale sostanzialmente ci ha detto che la richiesta all'Italia di firmare è arrivata, ma che il governo aveva deciso di fare degli approfondimenti e che la tempistica per la firma di questa lettera era troppo ristretta perché l'Italia nel frattempo stava indagando. Quindi ci ha spiegato che Germania, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada, che si erano messe d'accordo su questo passo, avevano cercato di coinvolgere l'Italia e l'Italia non si è fatta coinvolgere. Ora questa è una dichiarazione di grande gravità perché dimostra che l'Italia ha rotto di fatto la solidarietà con i suoi alleati storici e ha fatto sicuramente una mossa che è stata grandemente gradita dalla Russia perché è chiaro che l'Italia che si sottrae, che si esclude dal novero dei paesi che ritengono la Russia responsabile di questo attacco chimico in territorio britannico, come la Gran Bretagna sostiene, il fatto che noi non crediamo abbastanza alle tesi britanniche e quindi prendiamo una posizione in favore della Russia dimostra che l'atteggiamento del governo, un atteggiamento che sempre di più diventa amico di Putin e sempre meno amico dei nostri alleati tradizionali. Questo è un passo molto grave perché rappresenta proprio una discontinuità rispetto alla politica estera italiana dal dopoguerra a oggi. Ci stiamo avvicinando, diciamolo con tutta chiarezza, più a paesi appunto come la Russia che ai nostri alleati tradizionali. È stata detta questa cosa in modo molto, diciamo così, sottile in una situazione di commissione parlamentare, quindi questa notizia potrebbe anche non avere troppa, come dire, troppa risonanza, ma a me sembrava importante segnalarvela e vi ho voluto raccontare che cosa è successo. Naturalmente noi adesso usciremo con tutti i comunicati stampa del caso necessari perché cercheremo di segnalare questa novità piuttosto grave, molto grave all'opinione pubblica, ma insomma voi che mi seguite in diretta, come dire, prendete questa primizia, nel senso che ve l'ho raccontata sostanzialmente appena successa. La riunione della commissione estera è stata alle 3, quindi siamo giusto un paio d'ereo fa. Io mi fermo qui, 17.16, come al solito ho utilizzato tutti i miei 15 minuti e anzi anche qualcosa di più. Non sono ancora in grado di dirvi domani a che ora sarò online perché domani torno a Milano e ancora non ho capito bene con quale aereo tornerò, ma insomma cercherò come al solito di essere online. Io vi ringrazio come al solito dell'attenzione, vi auguro un'ottima serata e la settimana sta finendo, ci avviciniamo al fine settimana e quindi spero che anche la vostra serata sia lieve e divertente e vi do appuntamento domani. Come ho detto non so ancora quando e precisamente a che ora, ma grazie per avermi seguito e naturalmente a domani. Ciao!